L'Assemblea Legislativa ha nominato Antonio Mazzeo, Eugenio Gianni e Marco Landi, i grandi elettori della Toscana, il Presidente del Consiglio con 27 voti, il Presidente della Giunta con 25 e il portavoce delle opposizioni con 13. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha fatto il punto sulla situazione dell'azienda di Marradi. L'impresa garantisce la stessa occupazione e il presidio senza parlare né di chiusura né di diminuzione dell'attività. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Presidente della Giunta Eugenio Gianni e il portavoce delle opposizioni Marco Landi sono i grandi elettori della Toscana che dal lunedì 24 gennaio a Roma parteciperanno all'elezione del Presidente della Repubblica. Mazzeo è stato nominato con 27 voti di preferenza, Gianni con 25 e Landi con 13. Ha ricevuto due voti anche Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Prima delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio Mazzeo ne ha spiegato nel dettaglio le modalità, visto che per la prima volta e come una delle prime esperienze in Italia l'Assemblea Legislativa della Toscana, pur convocata in presenza, ha espresso il voto in modalità elettronica. Ma io sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità perché lunedì 24 di gennaio noi avremo per la prima volta, la sera alle 19, è già calcolato il momento in cui i tre grandi elettori della Toscana sono chiamati al voto, la possibilità di esprimerci. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana ma anche venendo dall'isola d'Elba tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. Sì, siamo soddisfatti perché la votazione è stata una votazione molto corretta, molto leale, sono state rispettate direi proprio quelle che sono state le proposte fatte. Noi come maggioranza abbiamo proposto come grandi elettori per la Toscana i due massimi livelli istituzionali, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Questa è una consuetudine ma siamo convinti anche di aver fatto una proposta di alto profilo che è stata apprezzata da tutto il Consiglio, tanto è vero che la votazione è stata veramente molto compatta. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ho trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Gianni, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e il portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori e la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale e per conto nostro tutti gli elettori della Regione Toscana. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra, l'abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, non era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Quindi un grande in bocca al lupo a Marco che rappresenterà sicuramente tutto il centrodestra toscano in sede di elezioni del Presidente della Repubblica. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio e l'intero suo territorio che i padri costituenti hanno voluto consegnarci con l'impegno di garantire la rappresentatività che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione. In questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consigliare, consegnando a lui questa fiducia. Il Consiglio regionale approva all'unanimità una risoluzione unanime sulla crisi occupazionale dell'ortofrutticola del Mugello a Marradi. In chiusura del dibattito ottiene 38 voti favorevoli su 38 votanti. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale a continuare a monitorare la situazione relativa allo stabilimento di Marradi dell'ortofrutticola del Mugello, a tenere aperto il tavolo di crisi aziendale affinché i talcanditi non sposti la produzione a Bergamo ed anzi rilanci la produzione dello stabilimento di Marradi. Elabori un piano industriale con prospettive di tempi e investimenti adeguati che non comporti una riduzione degli organici attuali, garantisca oltre ai livelli occupazionali la qualità della produzione e in particolare garantisca la continuità della produzione dei marron grassè nello stabilimento di Marradi. I marroni di Marradi sono un patrimonio di tutti noi, un patrimonio culturale, di paesaggio, agricolo ma anche industriale nella loro trasformazione. E quella fabbrica che occupa tra stagionali, in particolare in modo donne, più di 80 persone e quasi 90 se si contano coloro che lavorano in modo stabile dentro l'azienda, capite che per un paese di 3.000 abitanti diventa una bomba sociale difficilmente sopportabile, anzi impossibile da sopportare. Per quello noi siamo andati, tanti consiglieri, il nostro gruppo, il nostro partito, ma tante forze sociali, politiche hanno voluto testimoniare solidarietà, vicinanza, ma non solo, anche il lavoro per una prospettiva che parte dall'ascolto di queste donne, di questi uomini che hanno rischiato di perdere il lavoro e che anche di fronte al primo passo importante, cioè l'azienda ha rinunciato alla chiusura dello stabilimento, ha bisogno ora di un secondo passo fondamentale, un piano industriale serio e credibile che mantenga le produzioni d'eccellenza e di qualità in Toscana e lì, perché lì c'è il prodotto pregiato, perché lì c'è la capacità di trasformarlo in maniera seria, perché lì ci sono le professionalità e la passione che si trasmette da secoli verso un prodotto così importante per la montagna mugellana e per la montagna toscana. Quindi continueremo a lavorare con forza insieme alla giunta regionale. Fratelli d'Italia ha sottoscritto e appoggiato e votato il provvedimento con il quale unitariamente il Consiglio regionale della Toscana ha espresso la volontà che Marradi prosegua ad avere una propria fabbrica di marroni. Il marrone di Marradi, conosciuto e apprezzato in tutta Italia e forse anche in tutta Europa, deve assolutamente rimanere a Marradi. Ma grazie a Fratelli d'Italia è stato imposto anche nell'atto un ulteriore punto, ovvero che oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro attuali, che sicuramente devono essere difesi salvaguardati, non si favorisca in nessuna maniera il trasferimento della produzione di marron glacé a Bergamo. Perché se i marron glacé verranno prodotti a Bergamo e lasceremo a Marradi soltanto la commercializzazione del marrone naturale, questo significherebbe inevitabilmente difendere oggi quei posti di lavoro, cioè difendere oggi la sopravvivenza nell'immediato della fabbrica di Marradi, ma senza un'ottica futura, senza una proiezione per le future generazioni. Perché difendere il marrone di Marradi non significa difendere il posto di lavoro di nove dipendenti oggi, significa garantire il futuro del comune di Marradi e della sua principale produzione. Abbiamo presentato anche noi un atto di impegno per l'ortofrutticola del Mugello, per l'azienda che si è vista sottrarre la trasformazione del suo prodotto tipico. Siamo stati presenti anche al presidio per portare la nostra solidarietà e quello che abbiamo trovato è stata una scena commovente. Un'intera comunità e il suo sindaco riunite intorno a delle famiglie, perché qui si tratta di famiglie intere, che lavorano a quella che è la loro tradizione, il loro orgoglio e che è quello che ha permesso anche loro per molti anni di portare a casa una fetta importante dello stipendio. Lo voglio ricordare, sono soprattutto molte donne che lavorano in questa azienda stagionali e il fatto di essere all'improvviso e in circostanze simili, diciamo, essere messe a conoscenza di questa notizia è stato qualcosa che ha sconvolto non soltanto la comunità di Marradi ma tutta la Toscana. Una forma di delocalizzazione sui generis che però non possiamo accettare. Per questo anche noi abbiamo aderito poi all'atto che tutti quanti i gruppi hanno sottoscritto per rinnovare l'impegno a sedersi al tavolo con la proprietà e convincere non soltanto a non chiudere l'azienda ma anche a lasciare lì la produzione, la trasformazione del prodotto che viene raccolto proprio in quelle zone, il marrone mugellano, perché se la produzione si può trasferire e questo dal punto di vista della morale, diciamo dell'etica economica, certo non ci fa felici, non è certo possibile spostare la produzione di qualcosa che è così caratteristico come appunto il prodotto delle castagne del Mugello.